non c'è niente di più buono dell'acqua gasata a garganella e poi magari un po di caffè e di nuovo acqua come vedete i frame oggi sono a 60p cioè il doppio dei frame che uso di solito questi frame sono stati scelti perché oggi farò un video mi state facendo impazzire non facendo impazzire è forse un po troppo esagerato un po troppo duro mi state proprio rompendo con questa richiesta perché perché volete vedere il cooldown il cioè sparare totalmente tutti i colpi del caricatore del vr 16 gas blowback della vfc che ho recensito da poco volete sapere qual è la sua efficacia resa con tutti i colpi sparati di seguito cioè 30 colpi del caricatore sparati di seguito per fare questa recensione voi non avete idea di quanto ho dovuto s***** per togliermi del tempo a mille commissioni fondamentali importantissime perché sennò stasera torna a casa il capo e mi fa un s***** così di conseguenza mi seguirete nelle mie commissioni e mi ascolterete nei miei deliri cioè su quello che penso su questo argomento prima di tutto consegna delle camicie e ritiro delle camicie ascensore bloccato discesa a piedi andiamo a prendere le camicie i capi sono in restituzione attendere prego che figata allora i gas soffrono di un problema tutti i gas o 90 per cento perché i ghk anche l'ultimo marui hanno dimostrato di avere una buonissima resa al cooldown o full dump chiamatelo come volete cioè allo scarico completo di 30 colpi con un'unica raffica e come dicevo i gas soffrono di questo problema cioè quando si spara raffica il lavoro del gas all'interno della camera chiamiamola camera di scoppio dove appunto avviene questo scambio di gas tende a raffreddare tutto fino a congelarlo anche quando fa caldo si raffredda tantissimo proprio per questo scambio termico e cosa succede? succede che il gas all'interno del caricatore anche si conge... cioè diventa più freddo e non è più così performante di conseguenza abbassa la potenza di uscita del nozzle dipende da come è fatto il nozzle e di conseguenza riduce anche le prestazioni di tiro e di precisione quindi la prova dei 30 colpi di seguito è un po' una dimostrazione anche per vedere intanto se ce la fa ad arrivare perché nella maggior parte dei casi cioè lo 90% sparate 20-15 colpi e poi il caricatore zon 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 anche se fosse carichissimo lasciato riposare quant'altro non ce la fa ad arrivare fino alla fine se il fucile diversamente riesce a sparare 30 colpi di seguito anche bloccando il bolt alla fine è una buonissima è un buonissimo segno poi anche come lo fa se lo fa costantemente se lo fa con una diminuzione allora nel 99% dei casi a meno che non vi facciano la prova con un gas iper potente che rischia di rompere il fucile il fucile dopo una ventina di colpi una decina di colpi incomincia ad avere un calo ma è fisiologico non esiste non esiste neanche la GHK tutti hanno un leggero calo e poi magari una ripresa questi comunque sono già buoni se voi avete un fucile che riesce a sparare tutti e 30 i colpi di seguito ha un caricatore e una resa meccanica buona adesso vi dico cosa ne penso io nella gestione di una raffica non vi troverete mai 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 ma dico mai nella situazione di sparare 30 colpi di seguito perché? perché questo fucile va usato in condizioni e in situazioni dove 30 colpi di seguito sparati a raffica non devono servire non perché non ci siano condizioni nel software che richiedano 30 colpi di seguito anzi giocate di software dinamico veloce dove si deve fare copertura non bastano forse neanche 300 colpi nel caricatore sparati di seguito a 30-40 pallini al secondo per tenere giù le teste di chi avete di fronte non è il mio modo di giocare non è un modo sbagliato di giocare dipende dalla situazione in cui vi trovate con un gas non andate a fare quelle giocate di conseguenza non dovete trovarvi nella condizione di dover sparare 30 colpi di seguito cioè ricordatevi che l'utilizzo dei materiali è sempre condizionato dalla destinazione per cui vengono progettati questi materiali è come prendere una bici da corsa e andare sullo sterrato come prendere una Ferrari metterci dentro lo zucchero e vedere vediamo quanto tempo ci mette a grippare non si possono fare determinate prove cercando di capire se il fucile è buono o meno il fucile va valutato sotto un altro aspetto va valutato sotto l'aspetto tecnico-meccanico se realizzato bene va valutato sotto l'aspetto della estetica se vogliamo o no anche molto importante direi un po' come una bella ragazza prima guardate la faccia poi il *** o viceversa dipende e poi magari conoscete se ha un bel carattere eccetera eccetera però la prima è l'attrazione quindi l'estetica e poi chiaramente anche quindi il gas come funziona eccetera ma non ho bisogno con un fucile a gas di sparare 30 colpi di seguito per capire se funziona bene è una prova stress dalla mia esperienza poi ognuno ha la sua dalla mia esperienza non è determinante ho avuto fucili a gas che sparavano pochissimi colpi in raffica di seguito tipo 12 colpi, 13 colpi e poi scendevano e non riuscivano a finire il caricatore ma che avevano una precisione eccezionale quando sparavi due o tre colpi di seguito altri fucili come il GHK ad esempio che è meno preciso di un Marui che invece ha un cooldown diverso maggiore rispetto al GHK quindi in realtà il fucile bisogna usarlo bisogna masticarlo bisogna averlo tra le mani bisogna sentire come funziona quali sono le sue rese e un'altra domanda che mi avete fatto sempre sul VR16 della VFC è vorrei sapere quanto costano i caricatori i caricatori costano come tutti i caricatori a gas quindi dai 40 ai 60 euro li trovate ovvio che è una spesa importante è una spesa importante come se voleste comprarvi un PTV e comprare tutte le parti di ricambio eccetera eccetera si tratta di una sezione di un modo diverso e di una tipologia diversa di replica di strumento che voi volete comprarvi per giocare quindi non paragoniamolo alla SG non usiamolo un'altra domanda che mi avete fatto è nelle rigide temperature invernali vedete? fate delle domande giustamente senza sapere che non hanno senso nelle rigide temperature invernali la parola stessa rigida a temperatura invernale vuol dire che non è il momento di prendere quel fucile quel fucile resta nell'armadio anche se fosse un Marui anche se fosse un GKK perché se io prendo uno di questi tre fucili e lo porto nelle rigide temperature invernali vuol dire che non ho capito come funzionano i gas sappiate che i fucile a gas tutti e per sempre anche quando li faranno ancora più efficienti di come sono già adesso non vanno usati in temperature rigide invernali perché sarebbe veramente come tirarsi un'ammazzata sui c***i da soli e come dire ma gli sci possono funzionare su un prato? non c'è la neve? non usare gli sci io quanto parlo mi sono annoiato da solo fermatemi quando faccio così adesso passiamo direttamente alla prova che stavate aspettando ricarichiamolo trovate un fucile che fa così grazie a tutti grazie a tutti allora impallinati avete visto la prova vi siete fatti le vostre considerazioni io vi ho esposto le mie ci vediamo alla prossima ragazzi ciao 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 Anni Anni Anni